Tra tutte le domande che ogni giorno ricevo sul sito di Real Time, oggi ho deciso di rispondere a Michelle da Torino che mi chiede un consiglio per quanto riguarda gli ombretti, perché avendo la carnagione molto scura mi dice che praticamente fa fatica a vedersi bene con tanti ombretti perché tendono ad ingrigirla e questo è un po' un problema che succede alle ragazze molto scure o anche proprio di colore quindi diciamo che il consiglio è di usare colori che siano molto intensi, molto saturi quindi come il blu scuro, il blu elettrico, il verdi e cercare di evitare i colori che sono gessati quindi anche semplicemente i colori opachi tendono ad essere con dentro molto talco quindi più bianchi e a ingrigire quindi la palpebra oppure proprio il bianco puro o i colori come il grigio, il tortora che magari tendono a starti peggio Michelle spero di esserti stata d'aiuto, ciao bella! Grazie!